Eccoci qua, benvenuti, io sono All, siamo su Mass Effect, il primo capitolo, il nostro personaggio è appena stato creato di fatto. Abbiamo la nostra bellissima nuova Molly, Molly Shepard, che è un incursore. Abbiamo tre punti da inserire, quindi teniamo uno di elettronica, quello non lo possiamo cambiare in realtà. Decretazione ci interessa tanto, fucili, ci permette di fare strage, a me piace molto, incursore, affidandoci alle attività furtive alla ricognizione, gli incursori preferiscono eliminare i nemici dalla distanza, quindi il cecchino. Fascino e intimidazione, allora uno di fascino, direi uno di fascino sicuramente, ci servirà un sacco, anzi forse un paio. Diamo fucili e pronto soccorso, non lo possiamo scegliere, no, perché dobbiamo sceglierlo se andiamo da qualche altra parte. Pistole, 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 anche pistole, anche pistole, vai. Ci piace? Gli altri li facciamo aumentare in automatico. Sì, per il momento va bene, carneficina. Noi siamo aumentati? C'è data buona? C'è data buona. Ok, diario, come sapete, ci spiega le cose. Ok. Codex è la nostra libreria elettronica. Tutto quello che succede, che vediamo. Andiamo. Quindi siamo stati spediti su Prime per dare una mano alla popolazione umana. Vediamo un po' un sacco di gas. Insomma. Uso il grilletto per zoomare. Ok. Premi A per selezionare. Quindi premuto il pulsante dorsale sinistro e premo A per selezionare cosa? Questo. Ok. Sì, sì. Fucile, Lancer, Storm e Avenger. A me non dispiace lo Storm. E quindi andiamo di Storm. Ma anche se avremo bisogno di qualcosa un po' più digittata. Allora, con i Psylon curiamo, se non sbaglio. Bene. Prendiamo. Qui non c'è una ceppa. Dobbiamo andare verso la torre. Come vedete, il tempo è bloccato. Mentre su PC, credo, sia solo rallentato. Pidi ping. Ok. Che cosa è successo qui? Ah, lo sai tu? Allora, non c'è un po' più. Che peccato In lunga distanza non riusciamo a fare Niente Proprio niente di niente Vediamo un po' Devo occupare Vediamo un po' se riesco a gestirmela Ancora un po' spastico Molto spastico Con i fucili su Si troppo Ok Quindi non sono addestratto sui fucili Ok Mi va bene Dovremmo fare un addestramento veloce Sui lanci Si grazie Interessante Per curare i compagni di squadra feriti Abbiamo dei compagni di squadra feriti Alcuno qua To Jenkins Che è morto Ok Ora non possiamo aiutarlo Capito? Agli ordini comandante Bravo Abbiamo anche un Dobbiamo Devo controllare se Ho un tasto veloce per poteri Però in questo momento in realtà Premi start per accedere al computer missione Poi seleziona la schermata squadra Man mano che sali di livello usa la schermata squadra Qui ci sono degli edifici dati alle Start Squadra Ho tre punti Ok allora Corazza tattica Elettronica Fucili Incursore Fascino Intimidazione Diamo un punto fascino Così diventa Affascinante Questo strage Ma Andiamo un po' Smorzamento Cosa possiamo fare di elettronica Sovraccarico Allora Su oggetti semplici Quindi anche robot 50 punti danno Da tenere in considerazione Corazza tattica E pistole Fucili di precisione Ancora non possiamo sbloccarlo Direi che ci siamo Aumentiamo i danni intanto Eeeh Ok Poi Kaidan Vado a controllare Ci vediamo a sito archeologico Vai Ho preso tutto Medigel Ci interessa Usa il tasto D Per impartire le ordini tattici Alla tua squadra Premi il tasto D Su Per far avanzare la squadra Di giù Per ordinare Di mettersi a riparo E D sinistra Per raggrupparla Attorno a te Di destra Per ordinare Di attaccare il bersaglio Selezionato Ok Vai Qui Vai qui C'è qualcosa C'è qualcosa Questa è una testa gonfia Ma non è roba nostra Ok Cazzo Ok Qua E' lì Vai calenco Ti scoppio Ti scoppio Curato Kaidan Allora lì c'è un kit di potenziamento Che ci interessa Ok Questa è un kit di potenziamento Questa è un kit di potenziamento Questa è un kit di potenziamento Ashley Williams Un nostro teammate Interessante Molto interessante Con quale potremmo avere anche Una relazione In futuro E vediamo un po' Di giocarcela Con i fucili No Non sarà mai Possibile Prego Ashley Però c'è un kit di pronto soccorso Quei che mi interessa Più di te Qua Molto più importante Di Di Ma che cazzo vuoi Siamo in missione Non rompere i coglioni Esatto Stavamo pattugliando il perimetro Quando ci hanno attaccati Abbiamo provato a lanciare Un segnale di soccorso Ma avevano interrotto Le comunicazioni Poi ho cercato di salvarmi Hai idea di che nemico ci voglia Chissà cosa vorrà dire Questa risposta Credo sia Noget I Ghett Non uscivano dal velo Da quasi 200 anni Cosa ci fanno qui? Devono essere venuti per la sonda Il sito è vicino Appena oltre quel rilievo La sonda deve essere ancora lì Andiamo Vieni con noi Williams Ci serve quella sonda Agli ordini signora Finalmente potrò vendicarmi Andiamo Ok Andiamo Sì ma basta Troppe occhiate Allora Nuovi compagni Adesso prendiamo il kit di potenziamento Questa è una cassa Corazza ultra leggera Scorpion Non mi ricordo più Devo confessare di essere Invecchiato tantissimo Se è possibile indossare le corazze Anche in missione Assalto Corazza da battaglia Ma direi che di no Allora Ashley è a posto Ashley è a posto Anch'io Non ho nulla da fare Ehm Ok Qua non c'è niente Mappa opzioni Inventario Forse è un inventario Allora abbiamo Il lancer È roba nostra Lo storm È roba nostra Kessler Avenger Lancia granate Blue wire Onyx Corazza leggera Umano Ok Ehm Vediamo un po' Vediamo un po' Noi E questo ce l'ha Edrin Labs Umano Ce ne siamo presa noi Credo di sì Corazza Pucine Corazza Adesso me la devo studiare meglio Vabbè Devo vedere un po' le cose Intanto Cambiamo Corazza Vediamo un po' Cosa succede qua Non c'è dato sapere Ok La copertura è un elemento fondamentale Della battaglia Raggiungi il punto Io devo raggiungere il punto Ok Usare il letto destro Per sporgerti E sparare Allora Vediamo se riusciamo a farlo così Se ha senso farlo così Chi dobbiamo sparare? Nessuno Cazzo di nessuno Non c'è nessuno Vabbè Ok Premi Arrivata a sinistra Per accovacciarti Oh 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 Muori Muori Bravo Premi back Per lanciare una granata Battaglia Tieni premuta Mentre ti muovi Per usare l'assalto E scattare Prevenente Ok Levetta 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 Esci Esci Dalla copertura Maledizione Muori Get Qua c'è una cassa Che mi interessa Un sacco Ho usato qualche potere Immagino Sì Tirati su Ok Dopo ci guardiamo Sito archeologico Ecco il sito La sonda era proprio qui Devono averla spostata Chi? Sono stati i nostri? Oppure i get? Non saprei Forse dovremmo dare un'occhiata al campo base Dirigiamoci al campo base È proprio quassù In cima al rilievo Perfetto Salva salva Io non spengo Faccio una cassa Vio avanti c'è un piccolo spazio porto Voglio darci un'occhiata Vi aspetterò lì No Allora È di qua Mi pare Si va di qua? Da qua sono tornato Forse Di qua Siamo passati Quindi non conta un cazzo Quella Freccetta O forse sì Prima andiamo al campo base Clopete clopete clop Devo capire ancora per i poteri Non mi ricordo come si facciano a usare Però scopriremo Davvero Esatto Bravo Gli hanno dipinti Allora Ho sbagliato Mutante Mutande Caricato Ahia Non vuoi morire No Guarda che faccio Fraccarichissimo Questo è andato C'è ancora roba Da uccidere Direi di no Vediamo un po' No non c'è nulla Perfetto Andiamo a Decritare la porta Alcuni oggetti Come le porte Bloccate Possono essere aperti Solo utilizzando Decritazione Noi ce l'abbiamo Se sei troppo lento A rispondere Se fornisci una risposta Sbagliata Fallirai Oh mio dio Vediamo un po' Che cos'è Cosa devo fare Non ho capito Non ho capito Boh Dovevo fare qualcosa Maledizione Omnigel Che peccato Ah Omnigel Insufficiente Ok Devo recuperare Degli Omnigel Ma Andiamo a vedere Cosa c'è qua Saren Nilus Questa non è la tua missione Cosa ci fai qui? Il consiglio ha pensato Che un aiuto Ti avrebbe fatto comodo Non mi aspettavo Di trovare dei ghett Da queste parti La situazione è critica Tranquillo Ho tutto sotto controllo Ha tutto sotto controllo Capito? E glielo siamo fare Con questo direi Di salutarci qui E vedremo nel prossimo episodio Che succederà A Nilus Per mano di Saren E quindi Ciao E a presto Grazie a tutti